buon lunedì 4 dicembre popolo rosso nero popolo del bandito o lunedì nel segno di massa adesso ne parliamo insieme prima concedetemi di chiedervi un like al video se anche voi siete indignati per quello che è successo ieri sera a napoli di iscrivervi a questo canale perché quando io parlo di zang e che deve emergere la situazione societaria e la situazione in cui si trova o dove si trova in che stato si trova il presidente dell'inter non è perché mi piace cazzeggiare ma è perché è l'unico modo far emergere il più possibile di salvaguardare il calcio italiano da da come oramai è messo e lo abbiamo visto tutti quindi sostenetemi iscriviti per canale e campanella ovviamente per le notifiche innanzitutto mi dispiace per i tifosi del napoli però com'è che quel detto no chi va con lo zoppo l'anno scorso ci avete fatto un gemellaggio con loro un gemellaggio sembrava un unico gruppo di tifosi uniti contro il milano tifosi del napoli e tifosi dell'inter beh ieri vi hanno mi hanno cacciato fuori da questo campionato mi hanno cacciato fuori proprio senza ritegno senza il minimo di di amicizia verso la vostra società con cui avete così stretto un legame fraterno di tifoserie un legame fraterno che sicuramente continuerà malgrado massa vedete non lamentatevi se l'autore martinez abbraccia lo botca lo tira giù l'azione prosegue massa è lì che guarda e ovviamente non fischia l'azione prosegue la palla arriva c'è la no glu che dovrebbe essere marcato da lo botca ma lo botca era stato abbattuto da lautaro e c'è la no glu segna e voi ancora con la bandierina dell'inter da sventolare perché siete gemellati siete amici amici amiconi amiconi uniti uniti e non lamentatevi non lamentatevi non lamentatevi se nel secondo tempo a cerbi da un bel colpo sulla caviglia di osimen osimen cade a terra a parte invertite l'arbitro avrebbe indicato sicuramente immediatamente il calcio di rigore come successe con turam col frosinone ricordate per molto 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 meno molto 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 meno o per il rigore subito dal milan coludinese per molto 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 meno non lamentatevi sventolate la bandierina dei nerazzurri nerazzurdi nerazzurdi non riesco a dirlo nerazzurro non mi esce sventolate la bandierina sventolate la bandierina non lamentatevi se poi qualche minuto dopo prendete il gol del 2 a 0 non vi lamentate non vi lamentate se pur avendo fatto il doppio dei vostri falli o il per parte non lamentatevi sono i vostri amici sono i vostri compagni di merende sono quelli con cui avete fatto un gemellaggio del tifo contro la milano rossonera non lamentatevi si lamentano tutti gli altri però perché massa è quello che in torino inter ci sono gli audio var di fronte all'evidenza delle immagini alla chiarezza delle immagini al la possibilità di nessun dubbio guardando le immagini massa è quello che dice all'arbitro mi fa mi pare fosse guida prima pallone e poi la gamba stravolgendo completamente la realtà dei fatti che vedeva prima la gamba e poi il pallone quello è massa quello è il signor massa la voce nell'audio che distorce la verità è la voce del signor massa quindi non lamentatevi non lamentatevi se l'abbraccio fraterno di lautaro al vostro lo botca consente poi a cialanoglu di andare tranquillo a tirare senza opposizione perché l'uomo che lo doveva marcare era steso a centrocampo con l'arbitro massa che diceva di andare avanti non vi lamentate avete voluto questi amici e questi amici ieri vi hanno letteralmente defraudato perché una partita che si sblocca con un gol del genere quelli che ancora chiedono il fallo di girù su lautaro ricordate il non fallo di girù su lautaro sono ancora lì che piangono perché vogliono il fallo di girù su lautaro fa niente se la palla l'aveva girù e scusate e sanchez li sbatte contro sanchez sono lautaro ma sono ancora lì che piangono e loro la domenica prima segnano su un gol con fallo di germian su chiesa e la domenica dopo segnano sbloccano con un gol di cialanoglu e il marcatore di cialanoglu quello che doveva marcarlo era fermo al centrocampo steso da lautaro così è così funziona così funziona quando io ve lo ripeto parlo di zanga e perché i media non lo fanno i media ieri sera quando ha segnato cialanoglu hanno fatto sei sette volte il replay del gol di cialanoglu non hanno mai fatto il replay del gol di del fallo di lautaro su lo botca abbiamo dovuto vederlo alla fine del primo tempo 10 secondi veloce poi chi l'ha commentato milito milito che ha detto sì ma si lascia cadere cioè guardate la foto in copertina si lascia cadere e allora quando parliamo quando parlo che siamo in pochi quando parlo di zang e perché oramai questa situazione deve essere chiara a tutti deve essere chiara a tutti questa situazione è una situazione con un uomo al comando più che un uomo un sistema un sistema al comando per cui tutte le decisioni arbitrali vanno sempre in un'unica direzione posso farvi 250 esempi di questo campionato di quello prima di quello prima ancora per cui se lautaro va cioè se turan va a terra in area con fosinone è rigore non si discute che il tocco sia lieve che il tocco sia sia grosso che l'abbia calciato lui che non l'abbia calciato lui è rigore perché deve essere rigore se invece cade usimen allora il tocco diventa lieve il tocco diventa ma non è abbastanza per dare un rigore però è abbastanza per darlo all'udinese contro il milan però è abbastanza per dare tutte le volte un rigore a loro ogni volta che vanno per terra in area e ma il sistema delle munizioni per cui mkhitaryan fa un fallo dietro l'altro un fallo dietro l'altro un fallo dietro l'altro non viene mai munito per cui protestano e non vengono mai muniti e il sistema è quello ce l'abbiamo davanti agli occhi tutte le volte ma tutte le volte ci fidiamo dei commentatori dei commentatori che se danno il rigore contro il forzinone a favore ci sta il rigore ci sta ci sta se non gli danno il rigore contro e ma era leggero ha fatto bene perché il tocco è leggero capite come stravolgono la realtà come massa la stravolgono come massa che di fronte all'evidenza di un fallo clamoroso di ranocchia su belotti a lavar dice ha preso prima la palla e poi il piede stravolgendo completamente la realtà come stravolgono la realtà descrivendo una società meravigliosa che va avanti splendidamente che ha aumentato il fatturato quando il presidente non si sa nemmeno se a piede libero quando i creditori inseguono questo presidente che non si sa se sia a piede libero i tribunali di Hong Kong di Milano e degli Stati Uniti questo è stravolgere la realtà questo è rovinare il calcio questo è essere tornati al 2006 semplicemente col fatto che comanda un altro al posto di quello del 2006 ma basta guardare le cose non è che ci vuole un super intuito un super genio basta guardare le partite basta guardare come una decisione se deve andare a loro favore arriva immediatamente è una decisione se deve andare a loro contro invece c'è sempre un motivo per cui non viene fischiata e non viene data questo è il calcio italiano questo è il sistema e finché non ne parleremo in tanti in tanti tanto da scuoterlo questo calcio tanto da scuotere questo sistema tanto da scuotere questa federazione da scuotere questo sistema sportivo politico mediatico che ha fatto un gruppo di potere che è sotto gli occhi di tutti e allora io continuerò a chiedere ma zang è a piede libero